Arriverà a dicembre il nuovo bando sulle menze scolastiche del Comune di Arezzo. Oltre 7 milioni di euro per il servizio, nuovi investimenti, percorsi formativi e informativi per genitori, comitati menza e alunni. Sarà un servizio ancora migliore, sostiene l'assessore alle politiche scolastiche Lucia Tanti. Molte novità in vista che accompagneranno la transizione verso la nuova struttura per la preparazione dei pasti prevista nel 2022. Il nuovo bando per la procedura di affidamento del servizio di ristorazione scolastica a partire dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 agosto 2022 manterrà ancora l'attuale sistema fino a quando la rivoluzione avrà attuazione. E durante questo interregno, prosegue Lucia Tanti, abbiamo previsto ulteriori lavori di adeguamento delle cucine perché non vogliamo lasciare nulla al caso in termini di sicurezza e di qualità del cibo. La prima novità è nella natura del bando e nell'articolazione dei punteggi da dare ai progetti che ci perverranno. È sempre la qualità rappresentare l'indicatore assoluto che guiderà la scelta. Il progetto, prosegue Latanti, sarà infatti valutato 80 mentre l'offerta economica 20. Un'attenzione particolare sarà assegnata alla figlia raccorta, dopodiché inserita una clausola sociale per garantire la sicurezza dei posti di lavoro a chi già era impegnato nel servizio. A questi lavoratori verrà inoltre applicato il contratto pubblico servizio ristorazione scolastica commercio, a differenza di quanto accaduto in passato. Un altro punto, prosegue sempre Lucia Tanti, prevede un accordo con i dirigenti scolastici per indire entro il 30 ottobre la designazione dei rappresentanti dei comitati Mensa così che possano usufruire dei percorsi di approfondimento sugli aspetti nutrizionali predisposti dai professionisti del settore e l'individuazione di un gruppo di alunni che affiancheranno i comitati Mensa degli adulti. Il valore complessivo del bando per i 32 mesi in questione è di oltre 7 milioni e 260 mila euro.